Mi do il benvenuto al Manillo Science Festival, probabilmente oggi ve l'avrò dato già numerose volte. Siamo arrivati a questo terzo intervento del pomeriggio, vi introduco il professor Rubin che insegna la teoria delle scienze sociali all'Università di Bergamo. Dopo il dottorato in sociologia presso l'Università Cattolica di Milano è stato segnista di ricerca all'Università del Salento. Ha frequentato il master in comunicazione alla Sissa di Trieste dove ha vinto il premio Lutman. È giornalista pubblicista, collabora con il centro di ricerca OBSERVA da 2014 e i suoi interessi di ricerca sono la comunicazione pubblica della scienza e il public engagement. Signori e signori, il professor Andrea Rubin ci dirà l'italiana intrascienza, tecnologia e comunicazione. Buon ascolto. Grazie mille. Grazie, allora io inizio ringraziando l'organizzazione per l'invito e voi per la vostra presenza qui oggi pomeriggio. Quello che, appunto come vi ho anticipato nella presentazione, sarà l'argomento della discussione di oggi, della nostra chiacchierata di oggi, è il rapporto degli italiani con la scienza e la tecnologia. Allora, è un modo per presentare una serie di dati che con OBSERVA abbiamo raccolto su un campione rappresentativo della popolazione italiana che descrive un po' l'atteggiamento degli italiani nei confronti dei temi tecnologici e scientifici. Spesso sentiamo tanto chiacchierare del rapporto degli italiani con la scienza e la tecnologia, qualche critica, però a volte spesso queste discussioni non sono supportate da dati concreti. Qui vedete alcuni esempi di temi che sono molto familiari per tutti noi perché quotidianamente li troviamo sulle pagine dei principali quotidiani nazionali o nelle principali riviste. Il cambiamento climatico, le vaccinazioni, l'omeopatia, le cellule staminali, la fecondazione assistita, gli OGM, sono tutti casi però che hanno una caratteristica in comune. Nel momento in cui entrano nell'arena pubblica diventano temi anche molto controversi. E scienziati e ricercatori spesso vivono questa, tra virgolette, opposizione della società al loro lavoro come un'opposizione alla scienza e alla tecnologia e al suo sviluppo. Questo è un aspetto che inizia già nel 1985 in Inghilterra quando gli scienziati preoccupati di questa opposizione ad alcune innovazioni tecnologiche organizzano una commissione, la Royal Society che è una delle più antiche e prestigiose società scientifiche organizzano una commissione di scienziati appunto per cercare di indagare i motivi di questa opposizione pubblica alla scienza. e alla fine del loro lavoro presentano un rapporto dove si individuano sostanzialmente due cause. La prima è un analfabetismo scientifico da parte della popolazione, la seconda è danno la colpa ai media. I media parlano poco di scienza e male sostanzialmente. Dal 1985 quindi si è iniziato a livello internazionale a monitorare quello che è noto come alfabetismo scientifico. Perché la domanda nostra a cui vogliamo rispondere è Gli italiani allora sono veramente ignoranti in fatto di scienza e tecnologia? L'alfabetismo scientifico si misura a livello internazionale attraverso una serie di domande standardizzate che vanno rivolte a un campione della popolazione. Queste domande sono Il sole è un pianeta? Vero o falso? Gli antibiotici uccidono sia virus che batteri? Gli elettroni sono più piccoli degli atomi? Observe fa questo monitoraggio da ormai 15 anni e in 15 anni vedete che sostanzialmente il trend in maniera un po' carsica comunque però è sostanzialmente tendente a crescere. Quindi gli italiani dimostrano che col tempo si stanno sempre più alfabetizzando la scienza. Quest'anno oltre a quelle tre domande ormai classiche abbiamo provato a introdurne due nuove. Una è se l'azoto è l'elemento più diffuso nell'aria e vediamo che ben il 56% della popolazione italiana sa che è l'elemento più presente nell'aria e poi gli abbiamo chiesto, visto che viviamo in un'epoca digitale se il bit è l'unità di misura della quantità di informazione. Qui abbastanza sorprendentemente scopriamo che meno di uno su due sa che cos'è il bit. Tuttavia possiamo dire che soprattutto se confrontato con l'alfabetismo scientifico registrato in altri paesi gli italiani non se la cavano poi così male. Quest'anno è stato anche l'anno di un'importante immagine che è comparsa sui principali quotidiani è la prima foto scattata a un buco nero e appunto viviamo sempre più in un'epoca in cui l'immagine ha un forte impatto. Allora abbiamo voluto provare a testare se l'immagine è un altro strumento utile per veicolare le conoscenze scientifiche. siamo anche nell'anno internazionale della tavola periodica allora abbiamo chiesto agli italiani che cosa rappresentasse quell'immagine e abbiamo scoperto che otto italiani su dieci riconoscono che questa ad esempio è l'immagine del primo test nucleare del Trinity Test quello che insomma venne fatto allo Salamos per vedere se la bomba nucleare funzionava e addirittura l'84% sa che questa è la tavola periodica è vero che questa è appesa in quasi tutte le aule di scuola quindi bene o male ci si entra abbastanza in contatto però abbiamo voluto vedere anche se alcuni scienziati spesso presenti sulla scena pubblica e mediatica erano riconosciuti dai cittadini e l'82% riconosce il volto di Margarita Hack ma ben il 93% sa che questo è Stephen Hawking era Stephen Hawking abbiamo visto quindi che insomma gli italiani tutto sommato male male non se la cavano vi apro e chiudo parentesi meglio degli americani ad esempio dove il livello è molto inferiore è tutta colpa dei media? allora gli italiani si espongono abbastanza ai contenuti tecno scientifici nei media vedete che nel 2018 ad esempio se sono relativamente pochi quelli che si espongono a contenuti tecno scientifici ogni giorno sono l'8% che legge giornali il 10% sostanzialmente che consulta siti web su scienza e tecnologia e l'8% che guarda trasmissioni televisive che parlano di scienza e tecnologia comunque è sempre circa il 50% che si espone almeno una volta alla settimana ma gli scienziati sono anche la categoria che gode diciamo così di maggior fiducia da parte degli italiani rispetto ad altre categorie sociali beh questo era abbastanza ovvio i politici sono all'ultimo posto non solo ma se noi chiediamo agli italiani rispetto a un tema scientifico di tuo interesse a chi ti rivolgeresti da chi vorresti avere delle spiegazioni la risposta per l'81% quasi l'82% è dalla viva voce dei ricercatori voglio andare ad ascoltare proprio chi si occupa di quello cosa ha da raccontarmi poi vengono le riviste di divulgazione i siti web degli istituti di ricerca ma c'è una grande fiducia nei confronti degli scienziati recentemente uno dei problemi che sembra essere emerso su cui però non ci sono ancora dati chiari bisogna essere sinceri non si è ancora scoperto qualcosa a riguardo è la diffusione di notizie false fake news nel web allora abbiamo chiesto agli italiani come valutano l'affidabilità di una notizia che trovano girando in internet e anche qui scopriamo delle cose abbastanza contro tendenza rispetto a quello che sentiamo spesso dire il 40% si basa sulla fonte da cui la notizia proviene è un dato abbastanza incoraggiante soprattutto se lo sommiamo al 17,5% che si basa anche sul fatto di confrontare se quella notizia è stata riportata da altre fonti autorevoli poi ci sono altri modi un dato che è interessante anche quando si parla di o si addossa la colpa a internet, al web come causa di diffusione delle fake news è che il 20% della popolazione italiana non usa internet è un dato tra i più elevati d'Europa ci sono paesi che arrivano quasi allo zero ma il 20% non usa internet che gli italiani siano favorevoli alla scienza è abbastanza indiscutibile anche se nell'ultima rilevazione il dato è un po' in calo però gli italiani pensano nella maggior parte dei casi che la scienza abbia sempre abbia degli effetti positivi per la nostra vita quotidiana ma qual è il rapporto degli italiani con la salute qui vediamo se parte un piccolo video uno dei temi che ci dà un'indicazione è quello che noi abbiamo definito dell'autocura il video non ci aiuta si va l'autocura intendiamo appunto quante volte gli italiani adottano una terapia senza consultare il medico secondo me un'indicazione è un po' in calo è un po' in calo perché non ci aiuta Insomma, qui il dato inizia ad essere un po' più, diciamo così, preoccupante, perché abbiamo visto che con poca differenza tra un anno e l'altro, comunque il 50% della popolazione italiana, almeno una volta, decide di intraprendere una terapia medica senza consultare il suo medico. E questo non è sicuramente un fatto positivo. Un altro tema che è stato particolarmente caldo negli ultimi anni è quello che riguarda le vaccinazioni. Allora, con i colleghi abbiamo iniziato a fare questo monitoraggio sulle opinioni degli italiani rispetto alle vaccinazioni nel 2015. Vedete che nel corso degli anni, e con l'accendersi del dibattito, le opinioni sono molto cambiate. Nel 2015 riteneva giusto che tutte le vaccinazioni, compresa quella dell'influenza, fossero obbligatorie solo il 23% degli italiani. 2 su 10, veramente molto pochi. La maggior parte riteneva che solo un numero minimo di vaccinazioni dovessero essere obbligatorie, lasciando invece la maggior parte delle altre decisione del singolo individuo, se decidere di sottoporsi alla vaccinazione oppure no. Mentre il 18% riteneva che nessuna vaccinazione dovesse essere obbligatoria. Passano tre anni, arriviamo al 2018, nel frattempo c'è stato un ampio dibattito nei media, c'è stata anche una forte decisione politica. Tutti voi ricorderete senz'altro il fatto che a un certo punto il Ministero della Salute, nella figura del Ministro Lorenzin, decise di introdurre l'obbligatorietà di una decina, mi sembra, di vaccinazioni, anche su sollecitazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che aveva individuato nell'Italia un punto debole per il ritorno di alcune malattie. e vedete che col tempo gli italiani hanno cambiato opinione. Questo per un sociologo è abbastanza interessante perché mostra come uno dei problemi principali rispetto a questo tema sia l'assenza di decisione. Quando le persone, la gente, non vede qualcuno disposto a decidere, ad assumersi la responsabilità di decidere. Nel momento in cui qualcuno si assume la responsabilità di una decisione, buona o cattiva, questo non importa, però decide, quindi la politica fa il suo mestiere, la gente apprezza e, diciamo così, asseconda quella decisione. Ma quali sono le opinioni degli italiani rispetto alle vaccinazioni? Beh, qui vedete che quasi l'88% si distribuisce tra coloro che ritengono giusto obbligare a vaccinare i bambini per non mettere a rischio la salute degli altri, la parte in verde, quasi il 50%, la pensa così, e un altro 33% ritiene che i benefici dei vaccini siano sempre superiori ai potenziali rischi. La rimanente parte, abbastanza esigua, ritiene che la diffusione dei vaccini serva solo ad arricchire chi li produce, Big Pharma, le case farmaceutiche si arricchiscono vendendo i vaccini, e un 10% invece mantiene ancora quella posizione che abbiamo visto prima ritenendo che il corpo è mio, sostanzialmente noi l'abbiamo riassunto un poco così, il corpo è mio e me lo gestisco io. Devo essere io e non qualcun altro a decidere cosa deve essere iniettato nel mio corpo. Se però chiediamo di chi si fidano gli italiani per ricevere informazioni sulle vaccinazioni, vedete ancora che sono proprio i medici di base, i pediatri, le figure di riferimento, che mantengono ancora un ruolo. Scarso o abbastanza trascurabile è il ruolo del web. Quindi anche qui a volte si fa un po' un'esagerazione nell'addossare la colpa a internet di cose che tutto sommato di cui non ha colpa. Faccio ora una breve carrellata sul rapporto con gli italiani e la tecnologia, perché viviamo in un'epoca digitale, e ad esempio vedete come si distribuisce l'utilizzo della rete per genere ed età. Se sostanzialmente non c'è una grande differenza di genere, maschi e femmine usano il web in ugual misura, vedete che invece c'è una forte cesura generazionale. I giovani lo usano fortemente, chi è un po' più avanti con l'età molto meno. Questo però è anche in qualche modo una rappresentazione di come si distribuiscono le risposte che abbiamo visto prima. I più favorevoli alla scienza e coloro che hanno un maggiore livello di alfabetizzazione scientifica sono soprattutto i giovani, i più istruiti. Coloro che hanno un rapporto più conflittuale con la scienza e la tecnologia sono soprattutto le persone più anziane e quelle meno istruite, e anche coloro che si espongono meno alla scienza nei media. Chi si informa di più tende ad avere un atteggiamento più favorevole. Anche qui vedete il livello di competenza degli italiani con la tecnologia, con internet. Se sono pochissimi i ragazzi che dichiarano di non avere nessuna competenza, sono quasi il 50% tra coloro che hanno 65 anni e più. Ma l'Italia è anche un paese particolare anche per conformazione geografica. Spesso con i colleghi di altri paesi gli diciamo ma tenete presente che l'Italia è un paese stretto e lungo. E quindi si differenzia molto. Infatti è soprattutto a nord che si ha un uso molto frequente della rete, mentre cala mano a mano che scendiamo di latitudine. Diciamo che in Friuli ve la cavate abbastanza bene. Ma anche qui un'altra cosa che caratterizza gli italiani più di altri paesi europei è le attività che si svolgono quando si è online. Se usa internet per inviare e ricevere mail l'86% degli europei, in Italia è solo il 77%. Però noi lo usiamo abbastanza in linea con gli altri paesi, ad esempio per andare sui social network, che non è proprio l'attività più utile per cui potremmo usare internet. Qui addirittura diventa ancora più abissale il distacco sul leggere siti di informazione. In Europa è il 72% che va in internet per leggere, per informarsi, in Italia è il 56%. E via via così, a scendere, fino a vendere beni e servizi, dove l'Italia addirittura è a metà rispetto all'Europa. E quindi questo ci dà anche un po' un quadro utile per riflettere quando sentiamo anche alcune proposte politiche, quando si parla spesso di digitalizzazione, aumentare l'uso del web per la partecipazione politica, vedete che partecipare a consultazioni civiche e politiche l'Italia e l'Europa sono abbastanza simili, ma a un livello abbastanza basso. Uno dei temi che ha occupato le pagine anche di alcuni giornali e la riflessione anche politica, dopo lo scandalo che forse ricorderete di Cambridge Analytica, che ha venduto i dati degli utenti di Facebook a società private, ai governi, eccetera, uno dei temi principali è stato la privacy nel web. Allora noi abbiamo indagato quanto gli italiani sono preoccupati rispetto a questo tema. E vedete che il 35,5% si dice abbastanza preoccupato, il 26,7% si dice molto preoccupato. Siamo quasi al più del 60%. Ma di cosa è preoccupato? Della possibilità che informazioni sensibili e contatti siano divulgate a terzi, appunto c'era un po' questo spettro di Cambridge Analytica alle spalle. Oppure l'80% è preoccupato che la possibilità che i gusti e i preferenze siano monitorati da società esterne, dalle grandi corporation che hanno in mano appunto questa grande quantità di dati. oppure che qualcuno cerchi di influenzare le opinioni politiche attraverso post e commenti mirati. L'idea che alcuni paesi addirittura possano fare interferenze nelle elezioni politiche. Ma la cosa curiosa è bene, il 60% è preoccupato, ma cosa fate per mettervi al riparo da quello che più temete? La cosa interessante è che appunto il 65% non fa nulla. Niente. Assolutamente nulla. Altri pochi si sono cancellati dai principali social network. Alcuni hanno chiesto quello che è noto come il diritto all'oblio, diciamo, e mentre altri si sono indirizzati verso l'uso di motori di ricerca, siti che non sono quelli più comuni, in modo da diciamo ridurre la possibilità di attirare l'interesse delle grandi corporation. L'83,9% ritiene che Google e Facebook abbiano troppo potere e che sia necessaria aumentare la vigilanza e la regolamentazione. Ma altri ritengono che ad esempio gli utenti non possano dare la colpa ai proprietari delle piattaforme ma devono assumersi la responsabilità dell'uso che fanno di questi strumenti. Dicono beh, se li usate dovete anche essere consapevoli dei rischi che correte. Ma un dato abbastanza interessante per me è il fatto che il 74,2% ritiene che i social dovrebbero essere proibiti ai minori di 18 anni. Tenete conto che i social sono usati per la maggior parte da gente che ha circa quell'età lì. Ora prima di lasciare lo spazio eventualmente a una chiacchierata più informale una breve carrellata di dati sparsi sul rapporto tra l'Italia e la ricerca. Allora quanto spende l'Italia in ricerca e sviluppo? Il dato è abbastanza sconsolante per chi magari lavora all'università ancora di più perché è solo l'1,3% calcolate che la media UE è a 1,9 ma qui i decimali fanno molta differenza parliamo di milioni di euro non è come pesare un chilo di farina che etto più etto meno no no qui sono milioni di euro paesi come Israele investono il 4,3% la Svezia il 3,3 il triplo di noi quindi dobbiamo porci qualche domanda rispetto a questo tema ma soprattutto quanti sono i ricercatori o le ricercatrici impiegate ogni mille occupati in un paese in paesi come la Danimarca la Svezia la Finlandia sono più di 14 ogni mille persone che lavorano 14 fanno il ricercatore in aziende pubbliche private non è importante questo però fanno quel mestiere lì si occupano di ricerca e sviluppo ogni mille in Italia sono 5 un terzo è facile capire anche che non possiamo competere con altri paesi sotto certi aspetti tuttavia l'Italia non si piazza male come articoli scientifici pubblicati anche come qualità della sua ricerca questo lo dobbiamo dire perché non dobbiamo sempre avere una esterofilia esagerata è vero che qui sembriamo ultimi nella graduatoria però ci confrontiamo con paesi siamo molto vicini a paesi come il Canada la Francia che insomma investono molto di più eccetera hanno tradizioni diverse quindi e poi questo è solo un dato puramente quantitativo mentre poi sui paper scientifici sappiamo che conta molto la qualità della ricerca che uno fa a livello di brevetti anche qui siamo un po' indietro brevetti sapete è uno strumento fondamentale per produrre ricchezza sostanzialmente perché io deposito il brevetto e questo produce degli introiti perché poi chi volesse usare la mia idea deve pagare delle royalties la Germania deposita 19.000 domande di brevetto l'Italia 3.000 è chiaro che anche qui c'è un divario enorme questo è l'ultimo dato poi giuro penso di avervi sconsolato del tutto quali sono i paesi europei più innovativi questo è un indice che è stato creato dalla commissione europea mette insieme vari elementi vedete che l'Italia raggiunge un punteggio di 0,37 ma paesi come la Germania sono più o meno al doppio il Regno Unito ha anche la Svezia 0,71 cioè imbattibile noi siamo a 0,37 ma la media UE è a 0,50 calcolate che la media UE è calcolata comprendendo anche paesi come Bulgaria Romania che non sono certamente paesi che alzano la media io qui ho concluso i dati sono pubblicati ogni anno in questo volume che esce annualmente ogni inizio anno intorno a febbraio con sia i dati che raccogliamo noi che quelli che provengono da fonti nazionali e internazionali che rielaboriamo per dare un quadro di insieme del rapporto tra scienza tecnologia e società il centro di ricerca si chiama OBSERVA a sede a Vicenza e siamo sostanzialmente dei sociologi che si occupano appunto di questo e qui ci sono dei riferimenti nel caso in cui volete contattarci adesso se volete possiamo fare una discussione con domande o sollecitazioni che avete grazie applausi grazie a